... Backstage di Yorson Pro, premiere al FICO Siamo pronti? Siamo caldi? No ragazzi Ho cercato parole più grandi di me Solo per farti capire il pensiero Che avevo dentro la testa per farti capire quello che ero A te non è mai andato bene nulla di me E adesso che te ne fottese non ti chiedo il perché Yorson Pro, siamo qui anche oggi Io e il mio collega Riccardo Cesario Oggi lo vedete diverso ma ci sta facendo crescere la barba Quindi ci sta a parlare di musica e di arte, di rock and roll In arena, fra poco Siete caldi? C'è riscaldamento... Globale Globale Esatto I mucchi sono rock and roll Secondo me sono l'animale più rock and roll che esiste Quasi come il Gran Torino Che oggi presenteremo all'arena FICO di Bologna Dove siamo ora? Allora, quindi ci vediamo di là perché la puntata è ricca Ok Cercavo un'idea E tu dal niente hai dato un senso al flusso Tu non hai un'idea Io sono nulla da quando sei tutto Questa frase è mia Amici, bentornati Bentornati sui TV Bentornati soprattutto su Your Song Pro Premiere Da parte di Riccardo Cesari E da parte di Paolo Lagranga Ciao a tutti E dimmi se il mostro che hai dentro se ne vuole andare Ma non credo tu lo lascerai mai E dimmi che cosa devo fare con te Se il mostro lo vuoi lasciare andare via per me Cioè cos'è che dicevi che prendi tratta luce Paolo? Faccio una lampandina No ma perché poi adesso è arrivato pure il sole E' l'uomo del risparmio energetico E' l'uomo del risparmio energetico Ciao Carlo Perché mi guardi ciao a tutti Mi sento importante Sì 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 Assolutamente Anche perché ci sta crescendo la barba Quindi non posso fare a meno Di notare questa cosa In più abbiamo questi nuovi Apparecchi Siamo anche logati Siamo anche logati perché abbiamo un logo Un logo del tutto nuovo Tra l'altro logo è FR Che ringraziamo e salutiamo La nostra direzione artistica Insomma il nostro Deus Ex Machina La nostra insomma tutto quello Trovate un aggettivo buono E ditelo per Francesco Romano va sempre bene Esatto Da santo in giù tutto vale Insomma fondamentalmente Chi è Sandra di voi due? Una bella domanda Allora tutte e due albergano nelle nostre Avevo risposto la stessa cosa Dipende dalla situazione Abbiamo avuto momenti di Sandra E momenti di Raimondo Entrambi Scambiamo parecchio A parte le compagne Scambiamo quasi tutto Lo diciamo per ovvia ragione Potete navigare con la fantasia Immaginatevi cose Ho visto che posto fico Guarda Io inizierò a girare Mangiare queste cose incontro Vuoi che dire amici Insomma Your Soul Pro Premiere Volge al termine Come dite? Non dovevo dire questo Vabbè ma ormai l'ho detto Quindi fa niente Ciao Ci vediamo chiaramente fra un mese Sempre qui su ITV Che ringraziamo per l'ospitalità Così come ringraziamo nuovamente E' Fair Live Mi sono d'accordo Ha detto tutto lui Inviateci materiale Un saluto a tutti Ciao Cosa state combinando qua al fico? Corso al pro premiere Siamo pronti per gustarci la cucina del fico Io sono qua a scegliere un piatto relivato Ci vediamo su cult Assolutamente Ciao Ok Il regista Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti